Ragazzi vi ricordate la collaborazione con il sito di Free2Play? Ecco vi riberò 20 secondi prima di questo vlog epico per dirvi che in descrizione trovate il link per registrarvi ad Hellsworld Ci mettete veramente io penso 10 secondi perché dovete solamente inserire nickname, password e vostre email E' un genio davvero particolare io vi invito a provarlo e poi magari a darmi anche un parere così potremo farlo magari in streaming assieme Buona visione e buon fine settimana Bene ragazzi, questa è mi bentornata in questo video vlog del sabato E' stata una settimana decisamente intensa devo dire Tra esplosioni del computer, esplosioni delle comunicazioni rete Sono quasi contento che sia finita Ragazzi ho decisamente molte novità da dirvi quindi ascoltatemi bene La prima che ritengo una delle più importanti è che probabilmente sarò al romix solamente venerdì e sabato mattina Dovevo esserci sabato e domenica che poi saranno il 4 e il 5 ottobre Ma purtroppo da una parte per fortuna dall'altra andrò a Manchester Eh si ragazzi ho trovato grazie a Tom's Hardware una partecipazione ad un evento della Sony Che mi ha invitato appunto ad andare a Manchester per seguire questo Drive Club Drive Club è un gioco di macchine specifico solamente per Playstation ovviamente Che verrà rilasciato penso verso la metà di ottobre C'è in ballo un grosso torneo nel quale potrete partecipare anche voi ma ve ne parlerò quando saprò meglio anche io ecco Quindi questa mi sembrava la notizia principale dirvi appunto che sabato pomeriggio e domenica non sarò al romix Perché sono a questo evento a Manchester Questa settimana oltre ad aver riparato il computer nuovo prendendo scheda video, processore nuovo e scheda madre Ho anche comprato tre cose molto interessanti Il primo è un nuovo cellulare perché il mio iPhone è totalmente morto Eh si la sfiga anche col cellulare Mi sono comprato uno Xiaomi Mi 4 che per chi non lo conoscesse un cellulare abbastanza sconosciuto me l'ha fatto conoscere Vegas Costa un terzo dell'iPhone e le prestazioni sono superiori vi dico solamente questo Lo vedrete però quando mi arriverà Ho comprato anche questa Gigi Week che è tipo un caricabatterie portatile Da 16.000 mAh per aver apportato con me l'energia di tutti voi E poi l'ultima cosa molto interessante penso Beyond Un gioco sul quale farò una serie il prima possibile Magari non lo so ha terminato quella di Mardred oppure in contemporanea vediamo Me l'avete chiesto veramente in tanti Mi avete detto Stepni Fallo e farò anche il Signore delle Anelli in l'ombra di Mordor Dobbiamo solo aspettare che questi titoli escono Ora questa settimana i video sono stati un pochino più tranquilli Soprattutto da mercoledì in poi che non ho avuto il pc a disposizione Entra adesso ripor... Entra adesso non preoccupatevi dal lunedì ripartiremo alla grande ve lo prometto Quando vedrete questo video sarò a Milano negli uffici di Tom's Hardware Per chi non lo sapesse sono la mia partner su Youtube Perché si terrà tipo un torneo di Call of Duty e una streaming di Twitch TV su Airstone Vi terrò aggiornati sulla pagina Facebook Che dovete mettere mi piace alla pagina Facebook Siamo quasi a 30.000 ve l'ho detto Ragazzi arriviamo a 30.000 entro la fine di settembre ci siamo quasi Andate! Bene, indovinate un po' cosa è arrivato al momento È arrivato al momento! Ehi pacchi! Allora se non trovate la vostra lettera che avete inviato in questo video Io vi invito ad andare nel secondo canale Perché oggi è uscito un altro pack opening dei vostri doni Regali, foto, lettere, capito? Allora direi di cominciare da questo Non c'è scritto chi ce lo invia Però sembra bello pesante Cos'è? Ma cos'è? Oh mio Dio! Le cose più strane Un braccialetto Una pallina rimbalzina Una gomma da cancellare con scritto step E dietro con scritto culo Una peora nera che sarebbe dolly 50 centesimi E un cerotto con scritto ti potrebbe servire Ma speriamo di no Ma perché? Poi c'è scritto il disegno non mi usciva Immaginalo Puoi Con affetto Edoardo Non dico il cognome Ecco una mia personale compilation delle tue frasi più importanti Ma questa è la cosa più epica della storia raccontata dagli storici che hanno studiato storia Primo posto Ragazzi Abbiamo ucciso il drago del land Secondo Tre Intanto la fotocamera si spenge Zero Quattro Pone Che grande Grazie mille Edoardo Second pack Il ragazzo si chiama Andrea Milanesi Mi ha detto di leggere il suo cognome E ti ringrazio perché mi ha inviato Dice Nascosta nella busta Eccola qua Eccola qua Appicciata con lo scotch Una micro sd contenente Cose interessanti per il canale Ad esempio Serie di minecraft E serie horror Mi sto già cagando addosso adesso Quindi fai voi Questo ragazzo è un hacker Dove c'è la messa invisibile Proverò a dargli un'occhiata Però mi serve un adattatore per il computer Per leggere queste schede perché non ce l'ho E poi mi invia questo disegno Con scritto 100k Grazie mille Andrea Next one Su questa busta è pieno di adesivi Tipo Pupazzi Pinguini Ornitorinchi È una soca È un giocherino Quanto di una soca Open back Allora intanto questa busta Ce l'è mandata dalla Svizzera Però non c'è scritto il nome Né sulla busta Né sulla lettera Quindi ve la devo leggere ragazzi Per forza Ciao step Ti mando questo disegno Il minimo che posso fare Per ringraziarti Non dovete Ti ringrazio quando mi fai ridere Ti ringrazio per l'impegno Smetti Te sei una delle poche persone Che ti mette il sorriso Ti voglio un mondo di bene Perché a tua insaputa Mi fai sentire meglio Nei momenti difficili Salutoni dalla Svizzera Perché sì Ti seguo dalla Svizzera Dove si parla italiano Salutoni Tao Che vuol dire Tao Forse è il tuo nome Tao E questo è il disegno Con diciamo Un riassunto generale Ironizzato anche con il creeper Fatto A correre A correre A correre A correre A correre A correre 24 ore di streaming Bravo Uno dei pochi che si è ricordato Grandissimo O grandissima Non lo so Un'altra busta a Svizzera E sarò No Novi Ho rotto tutto No che grande La mappa di Los Santos Look at that Look at that No via Questa la devo appiccicare Da qualche parte Il cazzo è bellissimo Grazie mille Cavolo Poi due braccialettini Il maldetto creeper Con la spadola di diamante E neanche qua C'è scritto il nome Nella busta è rovinata Non riesco a Agetai E il tuo cognome Non si legge Fanculo Non si legge Ciao Step Sei un grande Mi fai divertire un casino Ti consiglio vivamente di giocare a Five Nights at Freddy's E' un giochino corto Ma fa veramente paura Spero i regali ti piaceranno Ciao Five Nights at Freddy's Vi darò un'occhiata Grazie mille Anche se non so il tuo nome Purtroppo Non lo so Una busta da Gabriele Step Il demolitore di buste No vabbè Questo è con Con questi aggeggini Che si rompano dentro Devo farlo per forza Devo farlo Ne ho presi un po' Ditemi che non l'avete mai fatto Dai Non ci credo mai Nella vostra vita Dai Alla sull'interno Troviamo un altro braccialetto Ormai sono stra pieno Di braccialetti Diventerò un rivenditore Di quelli che trovate per strada E sulla spiaggia Allora Mi segue grazie a suo fratello Mi ha detto E mi segue Per Minecraft in principale Guardate qua Tutti i suoi personaggi preferiti Grazie davvero Gabriele Per questo pensiero Anche se è minimo Ma è qualcosa di incredibile Te non te ne rendi conto Guarda il mio sorriso Guarda Ora sto così tutto il giorno E poi mi hai dato questi L'ultima Busta di oggi Qua rincollata Da parte di una ragazza Alice Ho paura Ho paura Ho paura Cos'è questo? Alice e Daniela Buon Natale a Stepney Buon Natale Buon Natale C'è scritto Tove Continua Del tuo tesoro Il tuo tesoro Una busta Ma ho scritto Il tuo tesoro Eeeh The big money It comes the money We go It comes the money 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 800 euro Ovviamente sono finti E poi c'è un'altra busta A uno scritto Imprevisti Multa di 40 euro Per aver guidato Senza matette Speriamo di no Quanto siete buffe? Pensate sia finita Ancora piena di buoni di roba Sta busta Ah qui c'è scritto Io sono il terzo Cosa vuol dire Io sono il terzo? Allora queste sono tutte le mie principali serie del canale Guardate The Sims FIFA The Last of Us Outlast Minecraft La Nutella ovviamente Eccola qua La nostra mia Nutella Mi sa che piace anche ad Alice e a Daniela La Nutella Mi sa proprio di sì E poi la scritta di Stepney 100k Iscriviti e gratis E il mio mino qua sotto So so good Ah aspetta ce n'è un altro Io sono il quarto c'è scritto Dio Dio quanti regali Altri due braccialetti Ragazzi guardate sono piedo Seppo di braccialetti Io sono il quinto Altri due L'altra busta Io sono il quinto E altri due Braccialetti Aspetta tu ho sbagliato Perché qui c'è scritto Io sono il secondo Ho sbagliato Cuccarini Anche la marina Bellina questa grazie Questo potevamo evitarlo Di riportarlo alla mente No ho fallito tutto Su questa busta c'è scritto Aprimi per primo Io l'apro per ultima E vabbè Ciao Stepney Siamo io Alice e Daniela Che ti iscriviamo da Taranto Ti iscriviamo da quando avevi solo 7000 iscritti Finalmente hai 124000 iscritti Continua con i tuoi video epici E fanno ridere tutti noi ragazzi Che ti seguiamo Che dire Sei un grande Ma questo si sapeva già Il 12 settembre ti abbiamo seguito in live Dalle 9 di mattina Alle 3 di notte Una sfacchinata Abbiamo saltato la scuola Solo per vederti Da un cavo di computer E non dal vivo Non abbiamo parole Per descrivere le emozioni E ci provare ogni giorno Con i tuoi video I sorrisi e i cedoni Grazie alle tue battute E ai tuoi attacchi di paura PS La marina è bellissima Sì la marina è bellissima Vi ringrazierebbe Vi ringrazio da parte sua PPS ci saluti nel video del sabato Grazie Certo Baci Daniela Baci Ale Alice e Daniela Grazie mille Alice e Daniela Ovvio vi saluto Non dovevate mandarmi Tutte queste biliardi di cose Grazie Davvero Ma ma ce n'è un'altra qua Ce n'è un'altra Non c'è il mittente Nella lettera non c'è il tuo nome però Non so come Vabbè Spero tu riconoscerai il disegno almeno Questo è il disegno ragazzi C'è il creeper La scritta stepley Tutta colorata Non so il tuo nome purtroppo Quindi magari scrivilo qua sotto Nei commenti E dire ragazzi Anche questo vlog del sabato È terminato Io spero che vi sia piaciuto Vi ringrazio ancora una volta Per tutte queste lettere Mi arrivano di continuo Mia nonna ormai è una vip La postina arriva Signora Margherita Lei è una vip star del web E la mia nonna mi fa E so per minipote Mi faccio le risate incredibili Grazie di cuore veramente Per tutto il cazzo di sostegno Che vi date E la parola cazzo ci vuole Perché rafforza Rafforza Il cazzo rafforza È brutto da dire Lo so Che dire ragazzi Ci vediamo nei prossimi giorni E nei prossimi video Passate anche dal secondo canale Perché è uscito il vlog Con altre buste Se voleste guardare Qualcos'altro trovate il link Cioè l'indirizzo di mia nonna Perché mia nonna non è un link Ma ha il suo indirizzo In descrizione Ho dimenticato questo Ho dimenticato questo Ok Fastest pack opening ever Ma che cazzo è incollato Ma 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 Maiala Allora c'è un mega disegno Mi sa Lo uso con lo scotch Allora un pro di sicuro Questo cazzo di cartellone È fantastico Cioè guardate C'è anche Eisenberg C'è il Krigler C'è il Steppli Il logo Dolly Jeb Tutto Tutti i personaggi Anche la lettera incorporata E poi c'è questo C'è scritto Ti porterà fortuna nei pack opening E quindi lo devo aprire assolutamente Anche se è impossibile Ma che cos'è Ma avete fatto apposta Scocciato con lo scotch Più duro della storia Delle storie Un mini guffetto Porta fortuna E se porta male Ma non c'è scritto Ah Paolo 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 Grazie mille Paolo Veramente O Paolo Non l'ho visto bene Quindi ragazzi Questo video è terminato Spero vi sia piaciuto Noi ci vediamo ai prossimi giorni Con un prossimo video A presto A presto Ciao 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 Ciao